Ciao ragazzi e ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi come fare questo coprispalla manica corta. Come potete vedere dietro rimane leggermente più lungo, qui sopra li copre bene e poi chiaramente manica corta. L'unico accorgimento, perché io non avevo dei modelli proprio da seguire, quindi rimane leggermente largo di manica. Quindi se voi volete la manica leggermente più stretta non fate altro che quando mettete sui punti di toglierne qualcuno in base sempre però calcolando il tipo di punto che state utilizzando, in questo caso il punto passa lacci, perché avevo detto che mi piaceva molto come punto e l'avrei utilizzato. Quindi non fate altro che andare a vedere il multiplo di che cosa è il punto passa lacci e casomai togliere un giro di questo punto. Per il resto è molto molto grazioso. Io ho utilizzato tre gomitoli del mio cotone, quello bianco e oro, però quello grosso, quello medio, da lavorare insomma anche con i ferri del 5, 5,5, infatti qui ho utilizzato mi sembra quei del 5, quindi ecco quello medio, non quello sottile. Quindi in caso ricordatevi di ripenere del cotone che comunque si possa lavorare con dei ferri grossi. Vi lascio al tutorial. ok, allora per andare a fare questo coprispalle vi servirà un ferro del 6 solo per mettere sui punti in modo che rimanga più morbido l'inizio del lavoro, poi però andremo a lavorare con i ferri del 5. Quindi questo ferro ci servirà solo per mettere sui punti e poi alla fine per chiudere i punti. Perfetto. Allora quanti punti dobbiamo andare a mettere su? Allora segnatevelo, quindi prendete una foglia della penna in modo che potete decidere voi quale taglia fare. Allora per una taglia S andate a mettere su 64 punti, per una taglia M invece andrete a mettere su un 70 punti e per una L un 76 punti. Quindi se fate il caso sono 6 punti di differenza l'uno dall'altro. Questo cosa vuol dire che se volete ingrandirlo o rimpicciolirlo o anche farlo più grande o più piccolo di quello che vi ho detto io, basta che andrete a togliere o aggiungere 6 punti in più. Quindi se volete fare per dire una taglia XL io non vi ho detto come fare, basta che comunque andate a mettere più 6 punti in più alla taglia L e la taglia L abbiamo detto che si mettono su 76 punti. Quindi per una taglia per dire XL andrete a mettere su 82 punti e così anche per le taglie inferiori. Detto questo, adesso andiamo a lavorare a costa 2 e 2 per 6 ferri, indipendentemente dalla taglia che andate a fare. Quindi andate a prendere il ferro del 5 e iniziate a lavorare a costa 1 e 1, non a costa 2 e 2 che rimane più delicata la costa 1 e 1 e chiaramente facendo sempre prima il vivagno. Quindi andiamo a fare come primo punto il vivagno a rovescio, dopodiché andrete a lavorare un diritto a rovescio, un diritto a rovescio. Calcolate che poi sul ferro di ritorno andrete a fare, lavorerete diritto su diritto, rovescio su rovescio, perché la costa 1 e 1 si lavora in questa maniera. Lo lavorate per 6 ferri. Dopodiché vi spiegherò come andare avanti. Ok, allora fatti i 6 ferri a costa 1 e 1, ho deciso di fare questo coprispalle con il punto passalacci. Naturalmente metterò il link qua sopra, così potete andare a ripassare come si fa il punto passalacci, perché non sarò qua a spiegarlo un'altra volta, perché sennò il video diventa troppo lungo. Tanto c'è il video, andate prima a guardare il punto passalacci come si fa e dopo lo fate per questo coprispalle. Però un piccolo accorgimento, allora noi iniziamo così, il primo punto è il vivagno, quindi un vivagno, dopodiché fate un diritto, un rovescio, un diritto e un rovescio. Da qui iniziate con il punto passalacci, con il primo ferro del punto passalacci, perché vi ricordo che il punto passalacci si fa su 6 ferri. Quindi qui andrete a fare, sul primo ferro andrete a fare questo, dopodiché finito questo andrete a fare il punto passalacci come spiegato nel video nel primo ferro. Finirete, una volta che avete finito il punto passalacci, finirete con gli ultimi 5 punti in questa maniera, un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio e il vivagno, sempre a rovescio chiaramente. Nel secondo ferro, primo ferro, secondo ferro, andrete a fare sempre questa parte come inizio, quindi ripetete questa cosa all'inizio del secondo ferro. Poi andate a fare il secondo ferro del punto passalacci, tanto è semplicissimo perché l'unico ferro che cambia nel punto passalacci sono il terzo e il sesto, ma è semplicissimo, quindi non vi confondete. Dopodiché, alla fine, agli ultimi 5 punti andrete a ripetere sempre questo passaggio, un diritto, un rovescio, un diritto, in modo che si formino i bordi del nostro coprispalle e rimangano a costa 1-1 praticamente, quindi andate proprio a ripetere questa cosa. Terzo ferro, idem, andrete a ripetere questa cosa sempre, chiaramente sul ferro di ritorno dovete lavorare, siccome questo è costa 1-1, quindi all'inizio costa 1-1, alla fine costa 1-1, in modo che non sbagliate, in mezzo fate punto passalacci. Ok? Quindi ripergerete questa cosa per 6 ferri, perché il punto passalacci si lavora su 6 ferri, però lavorando sempre i primi 5 punti e gli ultimi 5 punti, a parte i vivagni chiaramente che vanno sempre fatti o a diritto o a rovescio, gli altri 4 punti lavorate a costa 1-1. Sul ferro di ritorno chiaramente dovrete lavorare, se per dire qua avete fatto un rovescio, quando andate a fare il ferro di ritorno vi trovate il vivagno, qua è il rovescio, lavorate rovescio, cioè il rovescio su rovescio e diritto su diritto, capito? Quindi lo sapete come si fa insomma, quindi lavorare come si presentano i punti, perfetto. Chiaramente se qua è un rovescio, vuol dire che dall'altra parte dopo sarà un diritto, voi dovrete lavorare un diritto, sul diritto sarà un rovescio, quindi così. Allora, se trovate la V lavorerete il diritto, se trovate il rovescio lavorerete il rovescio. Solo per i primi 5 e gli ultimi 5 punti, perché poi in mezzo lavorerete sempre il punto passalacci, calcolando sempre primo ferro, secondo ferro, terzo ferro, poi il quarto ferro del punto passalacci che sarà diverso, ma i primi e gli ultimi 5 sempre come si presentano i punti, perché vanno lavorati a costa 1-1. Poi quinto ferro ancora fate la costa sui primi 5 ferri, cioè sui 5 punti e poi gli ultimi 5 punti sempre la costa 1-1. Andrete a fare sul quinto ferro chiaramente in mezzo il punto passalacci come spiegato nel video e l'ultimo ferro del punto passalacci, perché si ripete e ripeto su 6 ferri, andrete sempre a fare i primi 5 punti in questa maniera, l'ultimo ferro del punto passalacci come si lavora, come spiego nel video e poi ancora gli ultimi 5 punti a costa 1-1. Dopodiché andrete a ripetere dal primo ferro, quindi andrete a fare sempre questa cosa qui per tutta la lavorazione. L'unica cosa che cambia sono il primo ferro e il secondo ferro che saranno uguali del punto passalacci, il terzo ferro cambierà, andrà fatto in una maniera diversa, poi ancora questi due saranno fatti uguali e l'ultimo ferro sarà lavorato in un'altra maniera perché cambia il punto passalacci, ma è semplicissimo perché si ripete sempre più o meno gli stessi ferri. Quindi, detto questo, andiamo a fare, vi faccio vedere solo un attimo, il primo ferro dopodiché andate chiaramente a lavorarvelo da soli, guardando il video del punto passalacci, perché ripeto, una volta che sapete i primi 5 punti vanno lavorati in una certa maniera, gli ultimi anche, dovete solo guardare dopo come si fa il punto passalacci, ma dopo un paio di volte che lo ripetete ve lo ricorate tutto in memoria perché è semplicissimo. Quindi, vi bagno, dopodiché vado a lavorare a costa 1-1, però siccome sotto già ho lavorato a costa 1-1, vado già direttamente a lavorare diritto su diritto, quindi questo è un diritto, rovescio su rovescio e questo è un rovescio, diritto su diritto, rovescio su rovescio e ho lavorato i miei primi 5 punti, ok? Perché 4 sono di costa 1-1 e 1 di vivagno. Adesso vado a fare il primo ferro del punto passalacci, che si lavora tutto a diritto, quindi vado e lavoro tutto a diritto, fermandomi chiaramente poi agli ultimi 5, perché gli ultimi 5 vi ricordo che andranno lavorati poi a costa 1-1, che poi in realtà, ripeto, sono 4 i punti lavorati a costa, l'ultimo, il quinto è il vivagno. Quindi vado avanti a lavorarmi appunto tutto a diritto il ferro, fermandomi sempre a 5 punti dalla fine. Calcolate che dopo un po' che lo lavorate, vi viene in automatico vedere dove è la costa, perché comunque si vede la differenza dal punto passalacci alla costa, quindi non vi potete sbagliare una volta che avete cominciato bene il lavoro. E ripeto, dopo un po' vi ricordate a memoria come si fa il punto passalacci. Comunque io ve lo anticipo un pochino anche intanto che sto lavorando a diritto, che il primo ferro del punto passalacci si lavora tutto a diritto, il secondo ferro del punto passalacci si lavora tutto a diritto, il terzo ferro del punto passalacci, quando comincia, dopo i primi 5 punti che avrete lavorato in questa maniera, inizierete con 2 insieme, un gettato, 2 insieme, un gettato, ripetuto fino a prima degli ultimi 5 punti. Praticamente il terzo ferro andrete a finire con un gettato, avrete fatto 2 insieme, un gettato, un diritto, perché si finisce così il punto passalacci e poi vi ritroverete i 5 punti che vi ho spiegato prima. Invece il quarto e il quinto ferro si lavorano ancora tutte e due a diritto, il sesto ferro si lavora praticamente a rovescio, quindi è molto semplice. Perfetto, quindi ho lavorato il mio primo ferro del punto passalacci e adesso devo finire con i miei 4 della costa più uno di divagno. Quindi mi ritrovo che qui ho un diritto e lavoro a diritto, qua ho rovescio, lavorerò a rovescio, ancora diritto, rovescio e poi lavoro il mio divagno. E la stessa cosa dovrete farla sugli altri ferri che farete, sugli altri 5 perché uno l'abbiamo già fatto, cambiando soltanto la parte centrale che va fatta con il punto passalacci.